ciao a tutti ragazzi sono marco e lui è mani bella e oggi faremo la random pkx challenge se non avete visto ancora il video in cui spiegavo cos'era andate subito a recuperarlo allora a me anche a me è blu quindi abbiamo che è capitato dei piccoli blu quindi dovremmo prendere solamente armi blu mi raccomando no mi hai bloccato il fame no in realtà tu mi hai bloccato me ma cosa vuoi ma tu hai bloccato me ma sto bico no ma cosa vuoi vabbè io non sono nabbo lui è nabbo guardatelo su una baggine guardate tutta la sua raga dovete andare nel suo canale no c'è pure scritto il nome nella copertina del video cliccate su il suo canale e guardate quanto è nabbo è la nabba vabbè io direi di andare a siepi no io voglio andare a foschi va bene ma va bene quindi ci siamo buttati andiamo a siepi da grifoglio e speriamo di trovare qualche arma non ci parla in video ci fa parlare i commenti ma non è una live mi dispiace ah raga comunque domani non lo so il pomeriggio farò una live forse ci sarà anche Manu cioè disponibile molto probabilmente ma ti vedo baggatissimo stai volando con le mani senza delta plano con le mani abbassate con i piedi fermi subito per me una bellissima fiocina che toglie 75 quindi è buona non ho trovato armi blu ho trovato te le armi verdi perché mi butta vogliamo fare la versione voglio magari una pistolina bianca prima di avere delle armi blu no hai trovato l'arma blu? ma perché? eh sì sì io ho una jump vabbè gli oggetti gli utility valgono ovviamente gli utility gli utility anche perché quello che ho trovato lì oh ma vale la pistola ho trovato oh non lo trovate più di pistola sono troppo potente raga da me c'è uno shieldone se lo vuoi adesso te lo porto eh da me c'è uno io ho trovato un vampa un vampa epico e un una fiocina raga ma non so non so perché quando apro l'inventario per tipo tuttare qualcosa mi va il cursore sul materiale aspetta soltissima fermo fuori allora manu vieni manu ah c'è c'è la metà sono forte perché uso da qualcosa c'è l'altro ho quanta gente no non lo peso non vale io ma abbiamo messo squadre ma dai ma manco un'arma blu vabbè manu comunque ieri fatti questo shieldino e lo shieldone eh raga comunque io ho un vampa epico e una fiocina vieni vieni no dai no ma c'è una ma c'è una ma c'è una ma c'è una è più fuoco comunque ovviamente vale vale sempre prendere un'arma verde e migliorarla Però non possiamo sparare Se l'arma è ancora verde Quindi Cerchiamo un po' di armi blu Dato che io ho solo un Io sono un vampa Io sono un vampa Allora praticamente Ho cambiato delle impostazioni E quindi non mi fa Ho trovato una cosa bella Ho trovato questo E comunque non mi fa Non mi fa piazzare le giampe E le trappole Bello Quindi prendila tu Te la fido trattamela bene Cosa ho trovato? Mamma mia Aspetta No non la faccio Eh vabbè Prendile e portamela da me Ci sono le cose belle Ma no Vabbè Perfetto E dove lo devo mettere? Eh vabbè Piazzare la pacca e tutto Eh tu lo facciamo così Aspetta Ma cosa fai? Ma no Ma guarda L'hai cancellato Perfetto ragazzi Iniziamo bene Questa bella parte No perché ho sparato Allora mi serve Aia Devi ripiazzarlo Stai facendo il tac di? Ma dov'è? Preca ma dov'è? Preca è scomparito Preca 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 Mi serve Il mattone E ferro Non mi interessa È un po' mio È un po' mio Adesso Raga sono povero Cioè Ho 63 di Ma come sei povero? Io mi devo fare Il scordo 2 di mattone 2 di Ok io C'è pure la safe Ma tipo Fra 5 minuti Indovina un po' Che troviamo Due tatticini Due tatticini Due tatticini No è vabbè C'è scontata Ok raga eccomi Ok raga eccoci Mi sono fatto Mi sta facendo Il tattico blu Perfetto Ora almeno Ho un pompa Manu ha già volato Non mi ha aspettato Vedete un po' che è brutta persona Io non sono una brutta pico Ma quando vai? Raga non seguitelo Ho cambiato idea Non seguitelo Non polluatelo Ma no dai Ok allora Pure io per gli miei 40 iscritti Non ti faccio polluare No dai Ok Ok Stop Make a stop Make a stop Ma rega non vale Pure io me lo son fatto Dai Potevamo riuscire un box Una tega Lo sai o no Lo sai hanno aggiunto la double pump Sì c'è sempre la rotellina ma dura di meno È più veloce È più veloce Ma quando mai No 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 Visto Raga è verissimo Non è una fucking news Non è una fucking news È una true news Come come Raga È una fucking news È una fucking news Raga Raga Voi avete mai sentito Avete mai visitato il canale storie vere Secondo me quelle storie sono verissime Già si capisce pure dal titolo Ma questo c'è proprio Ma questo c'è proprio Storie verità Ora se c'è scritto nel titolo Allora è vero Al cento per cento Ma c'è un pesciolino piccolino C'è un flopperino Ah Già meglio Guarda un flopperino piccolino Un flopper Ma c'è un pesciolino Ma è No No Eeeh ma la testa se me la metti in Afghanistan barra Iraq Un Parkinson Un Parkinson Raccogli Ah come sono forte Mamma mia Mamma mia Raga Impariamo Raga Impariamo A raccogliere le rucce Ramaro Marrone Raga C'è incredibile Ramaro Marrone Mamma mia Raccacci Troppo potenti Ramaro Marrone Troppo potenti Un caracca Rattattattattà Raga Avevamo fatto Avevamo registrato un video no Dove ci siamo praticamente dimenticati di fare la random px challenge Guardate che youtuber professionale C'è pure una px C'è pure una px Il più novanta leggendario Oh le people Dove dove Manu 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 Adesso Eeeh Manu è lì tipo Eccola eccola la pista sta qui Dove 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 le people Eh Finalmente No No Fatti il flop Eccola la jump C'è fra hanno Hanno spaccato la jump Io che Io Quando me lo vuoi dare sto scendone che ce l'hai dall'inizio della partita Oh Manu dietro Sopra Sopra il tetto della calla Affa me Senti che ti faccio bruciare tutto eh Manu Manu Cosa volere Te l'ho proprio preso Perché sono una prova Peppoli Vai vai Non ci dirò È una bis Le people Le people Mamma mia Ah Grande Vai Curami 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 Ah lo scherbiolo Non ci credo Dai vai Ti vieni Dai Dai Frate Manu Manu Corri Ma sei scemo Ma dove sei scemo Corri cane Che vaia Non è il cane che salto Dai Levati 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 Guarda questa clip Questa clip Ve l'ha salvato Proprio Non è la salvaggia Ma è la salvaggia Ma è strana No Manu 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 Ma non è il cane Manu 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 Ma dove sei Ce giù Ragazzi Li compagni Non è il cane chissà che bel video che avrà pubblicato il mio youtuber preferito panther game chi sa che bel video nel video raga comunque da notare che ho 10 di vita e lui 29 capito c'è una casa c'è una mia casa ma ti devi ma ti eren ma ti mi casa ti armi c'è lei che è pure belle c'è una mia casa c'è un calciato in soffitto corri ma c'è cura si chiama c'è sì però invece pino e faccia quello l'amico l'orecino no no rega io voglio prendere tantissimo ma non puoi ma non stai lanciando delle armi ragazzi nei commenti manu barone no ma non ho più ma ti ho preso e c'è un merit c'è un merit fai presto andiamo in safe prima un po' me lo faccio mi sei che non viene farmela a me no io non lo devo fare ma io guarda io come sto messo male a me se c'è qualcosa che c'è qualcosa non c'è qualcosa vai ma non vasco tutta la postolina ragazzi ma viene in safe ragazzi tutti nei commenti manu barone ma cosa ma no ma ho preso le jump però se do io una jump c'èno ora eh va vero che me le jump guarda che prendo i po' oh le people ci sono tante ci sono le people ma c'è un spotenziarmi di far vicino come potenzio questo assalto così che mi prendo l'assalto io ce l'ho l'assalto ce l'ho resanta ok io sono su belle perfetto ragazzi questa partita sta andando veramente molto bene direi ho rischiato se fossi stato in sé fuori 6 super 10 secondi in più sei morto problemo con dettagli particolari non è che c'entrano molto non è che avrebbero determinato la fine del video no ho sbagliato ok raga manu che se ne scappa perchè ha paura di me perchè sa che sono troppo forte quindi se ne va via eh manu manu birbante che te ne scappi da me a casa quando so cercando a un emic per uccidere billi io non ho materiali ma i capelli ma domenico bini raga è il vulcano è ruttato aiuto c'è un ritardato non si dice ma si dici sono forte schifo ma vabbè eh vabbè eh ma c'ha leggermente mancato infatti i silbini i silbini i silbini copri però copri muoviti sto scelgando cara ma che partita vieni sali non mi fanno tenere raga ma che me la partita i meritit ma muro muro vai metti i meritit aiuto perché ne c'ho sto ma edita edita ma dove vuoi andare aspetta ci sono due persone a terra a terra io ne ho già plusso qui martin bici raga ma cos'è una salta blu non ha salto blu mio mio mi prendo pure il cerchino perché ho buttato il raga che rosic che rosic che rosic ma la peggiorò basta ma posso prendermi questo no posso prendermi la pia? no come no ma non è un'arma no no ma è un'utilizzo ma è un'utilizzo raga nei commenti manu bara basta manu bara non ti parlo no manu prendi la gianta tu vuoi un'utilizzo prendi la gianta prendi la gianta la gianta la gianta hai presa sta calma però comunque è un'utilizzo no aspetta che ho tenuto uno lì dici uno morto abbiamo qualcosa che aveva le cose belle vabbè siamo due contro uno ahi posso leggere no cosa sono le più poi brutte vabbè due contro uno ahi siamo due ahi siamo due ahi siamo due ahi 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 che scelta ahi che scelta che scelta due e tre ahi due e tre c'è ahi ah ahi 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 ahi